Scusa, lei ha visto un miglioramento? No, no, non l'ho visto. Poi ha visto però qualche successo che gli ha fatto in quella partita. Com'è? Lei che ne ha giocate tante in quella partita, che deve essere fatta dopo aver visto le partite? Non ho visto le partite, non ho visto niente io. Non ho visto niente? No, 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 ho sentito molte cose, ma non ho visto niente. Che questione si è fatta di quello che ha sentito? Oh, beh, sono le solite cose, che la Juve è favorita degli arbitri, come al solito. Intanto chi vince è sempre favorito degli arbitri. Sempre così.